da oltre 40 anni vacilfrutta c'è per te la qualità e risparmio vacilfrutta c'è per te selezioniamo il prodotto vacilfrutta c'è per te benvenuti al meteo volge al termine l'ondata di calore aria più fresca in quota spazzerà via l'afa e il caldo intenso che da giorni stiamo vivendo vediamo il dettaglio di mercoledì 6 luglio sul veneto sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso in montagna consueta variabilità pomeridiana con temporali che col passare delle ore potranno verificarsi anche nelle aree adiacenti grazie ad una maggiore ventilazione i valori termici tenderanno a scendere soprattutto da giovedì ma già mercoledì lo avvertiremo avremo temperature minime comprese tra 16 e 23 gradi massime invece comprese tra i 28 e i 33 all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso tanto sole cielo sereno o con poche nuvi sparse isolati piovaschi sui rilievi temperature minime tra 20 e 25 gradi massime sui 30 32 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove sarà soleggiato con annuvolamenti specie al pomeriggio associati a temporali sparsi temperature minime sui 18 19 gradi massime intorno ai 32 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento da oltre 40 anni vacilfrutta c'è per te la qualità e risparmio vacilfrutta c'è per te selezioniamo il prodotto vacilfrutta c'è per te che fai Grazie.